Ecco, colgo l'occasione di ringraziare le tante persone che si sono impegnate diciamo in questo periodo per creare ecco lo spirito, l'ammosfera del Natale. Ecco quelli che, così cominciando magari dal gruppo dei volontari che annualmente costruisce ecco la capanna qui sul sagrato della nostra chiesa. Ecco un gruppo ecco di persone che veramente ogni anno non mancano a questo appuntamento, quindi li ringrazio veramente di cuore, come ringrazio anche tutti gli altri che anche nelle altre zone del nostro paese, nei diversi rioni hanno costruito il segno, ecco il segno del presepio, del Natale. Quindi anche questi segni esteriori ecco sono importanti perché aiutano lo spirito, ci fanno sentire dentro un paese che è animato ancora da questi sentimenti profondi che sono i sentimenti propri del Natale. Grazie veramente, veramente a tutti. Grazie. Grazie.